ciao ragazzi spero stai bene allora noi oggi abbiamo dedicato alla giornata alla tecnica due movimenti nello specifico double lander doppio giro di corda e keeping quindi come usare la barra per fare le trazioni o comunque utilizzare anche l'addome nello specifico quindi abbiamo fatto delle transizioni una didattica direbbero quelli bravi quindi ho cercato di far capire il timing come direbbero quelli bravi il tempo insomma cercare di mettere in testa qualcosa che potrebbe sembrare difficile vedrai che in queste transizioni troverai qualcosa che ti può essere utile sicuramente se qualsiasi domanda lo sai mi scrivi sotto nei commenti giù hai qualche link che ti porta direttamente a come imparare anche la corda in questo caso comunque ragazzi noi anche oggi abbiamo provato ti dico di iscriverti al canale oppure lascia un mi piace ancora allenati bene ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.